Mi pare che oggi nel campo della progettazione si stia ritrovando un equilibrio, perché negli anni precedenti c'è stato un eccesso di rigore che ha portato a una progettazione troppo uniforme, di fatti certi oggetti erano uguali sia a Hong Kong che a Varese. Quello che mi preoccupa più di tutto è che l'oggetto risponda realmente a una funzione, che questa funzione venga svolta nel modo più semplice e più facile possibile, che l'oggetto non sia legato a nessun stile, a nessuna moda, per cui lo si possa vendere anche fra vent'anni, infatti io ho degli oggetti che si vendono da 40 anni per esempio, perché non sono legati a nessuna moda e soprattutto quello che mi piace di più, che proprio mi dà un grande piacere, è fare un oggetto che più semplice di così non si possa fare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.